Il suo nome era tornato in auge grazie alla serata delle cover di Sanremo di quest'anno, quando la sua idea, ossia ma quale idea, era diventata appunto oggetto di una reinterpretazione da parte dei Bunker 44 in gara al festival. Ironia della sorte, nello stesso anno, si è spento ora Pino D'Angio. Con quell'aria un po' stropicciata, indifferente, con l'eterna sigaretta accesa, era diventato un'icona della musica disco italiana degli anni Ottanta. Pino D'Angio al secolo Giuseppe Chierchia è morto infatti 7 luglio, all'età di 71 anni, ne avrebbe compiuti 72 ad agosto, dopo aver collezionato successi internazionali e con la grande soddisfazione di aver visto il suo brano più noto, ma quale idea, ridiventare appunto un tormentone negli ultimi mesi, grazie a quel remix citato e con il duetto di febbraio sul palco dell'Ariston con i Bunker 44. In una storia sul loro account Instagram, ecco che i componenti della band hanno ricordato il canto autore pubblicando un video. Vorremmo prenderci un momento per omaggiare e ricordare soprattutto una leggenda, un'icona che ha fatto innamorare e ballare tutto il mondo e che ci ha insegnato il valore della vita, dell'umiltà e della spensieratezza. Pino era così, hanno scritto ancora. Riso in faccia al diavolo è sempre stato un guerriero e ci ha insegnato ad amare la vita. La moglie Teresa e il figlio Francesco hanno comunicato la notizia della morte dell'artista, originario di Pompei, scrivendo sui social. Purtroppo oggi papà ci ha lasciati, colpito da un grave malore che lo ha portato via nel giro di qualche settimana. Ha resistito tanto come ha sempre fatto. In varie interviste, dopo il successo della performance Sanremese, lo stesso Dan Gio aveva parlato delle numerose gravi malattie che lo avevano colpito negli anni, tra le quali un tumore alla gola che lo aveva costretto a sei interventi chirurgici, poi anche un infarto con arresto cardiaco e infine un altro tumore ai polmoni. Problemi di salute ai quali ha sempre reagito con coraggio, riprendendo l'attività artistica e infatti è stato anche doppiatore, attore, produttore musicale dopo appunto le pause forzate. La sua caratteristica voce, roca, ha dato vita a quello che viene considerato appunto il primo rap italiano. Ma quale idea? Una grande hit del 1980, rimasta poi al vertice della hit parade spagnola per 14 settimane l'anno successivo. Nell'81 invece fu la volta di un concerto da strapazzo, sempre all'insegna dell'ironia e del non-sense, in cui immaginava di duettare con i più grandi big della canzone. La sua è stata una lunga carriera, tantissime le tourne internazionali e i riconoscimenti prestigiosi. Nel 2001 è stato l'unico italiano a ricevere negli Stati Uniti i Ritman Soul Music Awards, ha scritto tra l'altro una canzone per Mina intitolata Ma chi è quello lì? Mentre nel 2022 il suo OKOK è stato scelto da Amazon per spot pubblicitari, per esempio del Black Friday negli Stati Uniti e nel mondo. Nel 2023 è tornato a girare tra Italia, Svizzera e anche Londra e Parigi e si è esibito in pub e locali e allora noi lo vogliamo riascoltare, omaggiare, insomma riascoltando insieme proprio Ma quale idea, direttamente dal 1980. Grazie a tutti!